Buongiorno a tutti, grazie per essere qui, oggi inizia la 18esima legislatura, stanotte abbiamo finito un po' tardi con Giulia e Danilo perché come vedete tante cose stanno avvenendo, era chiaro che non si potesse accettare subito che ci fosse una forza politica del 32,5% che ha il 36% della Camera e che chiede la Presidenza della Camera, molti di voi mi dicono ma com'è che dobbiamo leggere le cose dai giornali, alcune cose su di me le scopro dai giornali, non le ho mai fatte, quindi diffidate anche da tanti retroscena perché si legge di tutto ogni mattina e capirete poi nei prossimi anni che cosa significa leggere retroscena su se stessi, di cose che non hai mai fatto, che raccontano i quotidiani ogni giorno. Per ricapitolare, il 5 marzo abbiamo aperto a tutti e abbiamo detto siamo disponibili a dialogare con tutti sulle Presidenze delle Camere, ci sono state un po' di telefonate, di incontri dei nostri capigruppo, è venuto fuori che si volevano riconoscere i vincitori, bene, abbiamo parlato sia con coloro che non avevano vinto e con quelli che avevano vinto, abbiamo chiesto alla Presidenza della Camera dei Deputati e abbiamo detto che eravamo pronti a dialogare sull'altra Presidenza, c'è stata una disponibilità di sorta, ci sono stati tanti incontri, interlocuzioni, rapporti sia telefonici che di incontri con i capigruppo, con tutti i gruppi politici e sembrava che tutto stesse andando nella direzione giusta. Poi a un certo punto è iniziata questa storia che Berlusconi mi vuole incontrare per forza e io personalmente un Nazareno bis non lo farò mai e non porterò mai il Movimento 5 Stelle e non porterò mai il Movimento 5 Stelle ad una cosa del genere. Anche perché il centrodestra aveva indicato in Salvini il suo interlocutore con le altre forze politiche e noi con lui abbiamo parlato, come abbiamo parlato con Martina, come abbiamo parlato con Grasso. Ieri sera Danilo e Giulia hanno fatto una riunione con tutti i gruppi di nuovo, hanno riaperto la discussione, hanno detto rinunciamo a due Vicepresidenti della Camera, noi che possiamo eleggerci di diritto e li diamo al Partito Democratico perché come vi ho detto l'altra volta non faremo con loro quello che hanno fatto con noi. Abbiamo detto chiaramente che nelle prossime ore siamo disponibili, ma non solo disponibili, stiamo attivando gli incontri con tutti i gruppi di nuovo le interlocuzioni, adesso non c'è più da fare l'incontro solenne, adesso c'è da sentirli e capire che vogliamo fare, che cosa vogliono fare. È chiaro che oggi non possiamo che votare scheda bianca, ma per una ragione semplice, tutti quanti gli altri fanno la stessa cosa, ma in generale oggi alla Camera si elegge a due terzi e comunque è oggi per quello che vediamo impossibile e soprattutto noi non vogliamo arrivare al punto in cui si debba andare allo scontro. Questa è una legislatura nella quale abbiamo delle varie maggioranze relative, ognuno si considera maggioranza relativa. Noi siamo la forza politica che ha preso più voti, ma non siamo andati dagli altri a pretendere, siamo andati dagli altri con uno spirito di responsabilità a dire a tutti guardate che noi questi voti li mettiamo a disposizione per individuare le figure di garanzia all'interno dei gruppi politici e non dobbiamo dimenticare mai il metodo, cioè se vogliamo cambiare le cose il cambiamento inizia dal metodo con cui si scelgono le persone o con cui anche si approvano i provvedimenti. Io sono orgoglioso della compattezza granitica del movimento che dimostra sempre sui valori, perché noi questo Paese lo cambieremo con l'integrità e la coerenza e il cambiamento inizierà proprio dalla Presidenza della Camera dei Deputati, che sono sicuro anche dalle interlocuzioni che avranno Danilo e Giulia nelle prossime ore arriverà ad un punto di conclusione. E poi da domani mattina inizierà realmente la votazione a maggioranza assoluta alla Camera, sarà quella che innescherà l'eventuale doppio turno al Senato e nella giornata di oggi noi faremo capire alle forze politiche che le Camere devono essere il riflesso della volontà popolare. Tra oggi e domani capiremo se la volontà popolare per questi signori vale ancora qualcosa oppure no. Ma è molto difficile immaginare che non possa valere perché questa volta le forze in campo sono totalmente differenti. È chiaro che se le altre forze politiche non hanno ancora chiarito quali sono le loro intenzioni, noi adesso per il bene delle persone che vogliamo candidare alle Presidenze delle Camere è logico che non le esponiamo ancora. Dobbiamo prima di tutto chiarire il metodo. Noi abbiamo varie opportunità in questo emiciclo parlamentare. Ho sentito più volte sia Matteo Salvini che Maurizio Martina in questi giorni. con loro continuerò a parlare. Una soluzione la troveremo. Nella giornata di oggi quello che vi chiedo è di stare sempre pronti perché potremmo doverci riunire più volte, potremmo dover cambiare il nostro modo di votare. Non credo nella giornata di oggi ma vediamo. Storicamente il primo giorno di votazione delle Presidenze delle Camere non è che si raggiunga qualche risultato. Anche l'altra volta. Siamo arrivati al sabato sera ad eleggerli tutti e due. Avete un sistema di messaggistica che Danilo e Giulia hanno messo in piedi ed è quello a cui dovete stare attenti anche per eventuali nuove riunioni in cui ci coordineremo e prenderemo delle decisioni anche abbastanza repentine. In queste ore sarà molto importante anche la velocità, la capacità di adattamento che non c'è mai mancata. Un'ultima cosa volevo dirvi. Al di là di tutte queste questioni sui nomi delle Presidenze delle Camere, sulle Vicepresidenze, sui questori, perché noi poi abbiamo allargato a tutti, abbiamo detto guardate che questi uffici di Presidenza facciamoli insieme. Il punto è che li vogliono fare insieme ma tranne che con noi. C'è una certa resistenza. Non voglio lanciare accuse, però vedo che c'è una certa resistenza a considerarci l'ago della bilancia, ma lo restiamo. Nelle prossime ore poi entriamo alla Camera dei Deputati e al Senato, anzi i senatori tra un po' devono andare, quindi non voglio dilungarmi. Entrare lì dentro con un esercito di cittadini che non hanno né pagato per la propria candidatura né devono ringraziare un capo bastone per essere lì dentro è già una grande rivoluzione. Siate anche il cambiamento che rappresentate oggi lì dentro, nello stare nei due rami del Parlamento di una democrazia parlamentare come l'Italia. Vedrete che anche questa volta metteremo un altro piccolo tassello verso il cambiamento totale di un Paese che ha bisogno prima di tutto di esempi. Già Roberto Casaleggio diceva le parole volano, gli esempi restano ed è quello che noi dobbiamo essere, un esempio anche nelle trattative che stiamo portando avanti. Dobbiamo essere sempre da esempio, non per le altre forze politiche, ma per i cittadini che hanno una grandissima fiducia in noi. Grazie a tutti e buona fortuna.